L'informazione su Fano TV comincia tutte le mattine alle 7 in diretta con Occhio ai giornali, il programma che state vedendo in questo momento sul canale 17 appunto del digitale terrestre. Comincia con il santo del giorno, lo vediamo subito con il cartello, oggi è San Gottardo, l'alba alle 5.55 e il tramonto alle 20.19. Uno sguardo adesso al tempo. Siamo sul sito della protezione civile delle Marche, per oggi cielo parzialmente nuvoloso, con deboli e brevi piovaschi nel settore montano, le temperature in lieve aumento, domani giovedì 6, ancora cielo sereno o parzialmente nuvoloso, venerdì 7 maggio, ancora precipitazioni nel pomeriggio con possibilità di deboli, isolati e brevi piovaschi nel comparto montano. E adesso i giornali. Il Carlino di Pesaro, la fotonotizia di oggi riguarda la mamma di un giovane, Mattia Epifani. Qui invece nella foto vedete la mamma, Valentina Minnicelli, davanti al tribunale di Pesaro. Questa mamma chiede la verità per la morte del figlio, morto a 18 anni a Gradara. Mio figlio lasciato morire. Mentre il titolo d'apertura, Viale Trieste, riecco isole polemiche, il comune di Pesaro ripropone il piano di donalizzazione con qualche ritocco, i commercianti però dicono no. La storia di questa donna uccisa da un linfoma, ora Francesca vive in un libro per la ricerca e poi il lutto, addio a Cerisoli, un esempio di lealtà. Nelle Marche 182 sezioni in quarantena, 52 in provincia, poi sempre sul fronte della pandemia, le vaccinazioni, giornata di AstraZeneca. E a sorpresa tutti lo fanno. Torna in città la palla del Cantarini, l'opera del pittore pesarese resta persa nelle campagne brianzole. Poi la politica con Gostoli che lancia il congresso del PD d'estate, il segretario regionale dimissionario, io resto da volontario, dice senza stipendio. Andiamo a vedere il Corriere Adriatico, sempre l'edizione di Pesaro. L'isola al mare si sdoppia, questo è il titolo. Il Comune conferma il modello 2020 per Ponente, a Levante si pedonalizza a Piazzale d'Annunzio, Baia Flaminia apre alle compagnie di ragazzini, Sparacca dice mettiamo a disposizione nove ombrelloni. Poi tutto il pesarese è adesso in zona gialla, AB alla mensa serve invece il personale. E poi sotto le notizie in breve, sempre dalla prima, Millanta, un milione come garanzia e truffa una pensionata. Poi 100 mila euro di coca sul camion arrestato un 22enne, decine di donne invece seguite dal centro antiviolenza. E poi da Fano invece messaggi sulla tomba, siete voi gli assassini, stalking e vilipendio fanese rinviato a giudizio. La pagina del Covid, le pagine del Covid sintomatici e ricoveri in calo, titolo del Corriere, curve ancora da zona gialla, chiusi i dati settimanali, carte in regola per il monitoraggio di venerdì, Ancona la città più virtuosa. Cala l'occupazione nelle terapie intensive, ma resta ancora sopra la soglia. Scuola invece in quarantena, ci sono 182 classi e la primaria ora guida i contagi, con 1.263 positivi tra i 6 e i 10 anni. I dati dell'ufficio regionale picco il 28 di aprile con 197 aule chiuse. Questo è il riquadro con, vedete, i dati nelle Marche, i positivi nelle scuole. Guardate il dato interessante che ci dà subito una fotografia di com'è la situazione nella nostra Regione. Nella fascia di età tra i 6 anni e i 10 ci sono 1.263 bambini positivi nelle Marche. Nella fascia 11-13, 959, 14-18 anni, 1.062 e tra i 19 e i 24 anni, 530. Il trend della distribuzione delle quarantene invece lo vedete in questo grafico qui sotto, divisi per provincia. Adesso invece la pagina del resto del Carlino con questa rivolta, tra parentesi, folle contro AstraZeneca. Nessuno vuole fare questo vaccino, almeno stando a questo articolo di Alessandro Farruggia. 2 milioni, ci sono 2 milioni in Italia, di dosi che restano dunque in frigorifero. I sanitari addirittura aggrediti a Napoli hanno chiesto Pfizer o Moderna, così però si metta a rischio la campagna vaccinale. I rifornimenti però sono in arrivo. Il Ministero dice avremo 52 milioni di flaconi tra Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. Sotto invece, guardate questa notizia, hanno record, una notizia che arriva da New York, hanno record per Pfizer, ricavi a quota 26 miliardi. Nei primi tre mesi del 2021 le azioni di questa casa farmaceutica sono salite del 47%. Il vaccino ha fatturato da solo 3 miliardi e mezzo di euro. Però c'è quest'altra notizia, sempre in questo articolo. La divisione Italia di Pfizer, di questo colosso farmaceutico, è stata condannata al pagamento di mezzo milione di euro, tra danni morali ed economici, per gli effetti collaterali di un farmaco per la cura del Parkinson, il cabasser, che avrebbe causato ludopatia e ipersessualità in un sessantenne. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado e nel corso della causa, i periti hanno confermato gli effetti collaterali di questo farmaco, che l'uomo, quest'uomo ha assunto dal 2001 al 2006 e che Pfizer indica invece nel bugiardino, nel foglietto dentro, soltanto dal 2007, quindi un anno dopo. L'uomo ha utilizzato 10802 carte di credito, usa e getta per giocare online e lui dice ero diventato iper-eccitato anche sul piano sessuale, poi ho incominciato a giocare come un pazzo e questi sono gli effetti collaterali di questo farmaco per curare il Parkinson, che avrebbe causato appunto ludopatia in quest'uomo di 60 anni. Ma mentre da una parte, come dicevamo, AstraZeneca in gran parte d'Italia nessuno lo vuole più fare, a sorpresa, in controtendenza, Pesaro, e qui andiamo sul Carlino, perché appunto nonostante ci sia come vaccino AstraZeneca, tutti lo vogliono fare. Ieri mattina, per la scarsità di dosi, sono stati chiamati a Ristò tutti i prenotati del pomeriggio, vaccinate circa 200 persone. E che cosa dicono queste persone? Dicono per esempio Lorella, di 32 anni, ascoltata da Davide Eusebi, dice sì, io vaccino mia mamma, anche se ne ho sentite di tutti i colori su AstraZeneca, però il vaccino ha deciso di farlo. Una coppia di anziani dice qui non ci caviamo le gambe, quindi non importa che vaccino sia, l'essenziale è farlo. In primo piano, pagina 4 del Carlino di oggi, ancora a metà luglio, morti quasi azzerati, è una previsione che fa l'analista dell'ISPI, Matteo Villa, il quale dice il Covid sarà come l'influenza, grazie ai vaccini anche in Italia calano i decessi, ma a gennaio abbiamo sbagliato strategia. Intanto i paesi ricchi punteranno a salvaguardare le persone più fragili con i richiami annuali e secondo questi dati pubblicati ieri, che sono stati pubblicati, a metà luglio avremo 10 morti in tutta Italia, quindi molto pochi, anche se 10 sono sempre 10. Nelle spiagge anti-Covid invece la musica è solo d'ascolto, ma si gioca a racchettoni e la Regione Marche ha delineato i protocolli per la gestione degli stabilimenti balneari. Nelle aree libere, accessi solo su prenotazione, gli ombrelloni a 3 metri e mezzo da palo a palo. E anche qui con questo grafico si ha subito l'idea di come saranno organizzati quest'anno gli stabilimenti balneari, anche nella spiaggia libera, anche nelle spiagge libere che però molti comuni hanno deciso di attrezzare. Andiamo sulla pagina di Ancona del Carino. Ricorderete, abbiamo parlato anche qui in Rassegna Stampa, di quel medico di 68 anni che a Falconara, perché sotto pressione da parte dei pazienti, i suoi pazienti che chiedevano i vaccini, i vaccini che non arrivavano mai, così questo dottore cosa ha pensato di fare? Lo ha anche ammesso. Ha deciso di inoculargli l'acqua al posto delle dosi di vaccino. E adesso, mentre all'inizio sembravano soltanto una trentina di casi, adesso potrebbero essere addirittura 90. Questo è il titolo del Carino di oggi, fisiologica al posto del vaccino, i casi sospetti diventano 90. I pazienti del dottor Costantini di Falconara continuano a rivolgersi alla polizia con dubbi, ci credo, e preoccupazioni. Il medico non è stato però interdetto, va comunque regolarmente al lavoro, in ambulatorio, ma non è ammesso al centro vaccinale. Prima ha ammesso dicendo che riceveva pressioni, poi ha dichiarato di aver fatto solo dosi vere. E' stato tutto denunciato alla polizia. Il dottore avrebbe ammesso di aver inoculato queste fisiologiche perché è stressato dalle continue richieste dei pazienti quando i vaccini ancora tardavano ad arrivare. Lo stesso medico ha però poi dichiarato che lui aveva solo fatto vaccini veri. E questo è quello che si evince oggi dal racconto, da questo articolo. Mentre sulla pagina di Pesero e Pian del Bruscolo c'è la cronaca con questo scontro terribile tra una moto e un'auto grave un 26enne in un incidente ieri mattina sulla Monte Labattese intorno alle 6.50 del mattino. Questo giovane in moto alla sua Kawasaki ha centrato una Opel ed è stato soccorso dall'eliambulanza. Nell'ulto il giovane ha riportato gravità, traumi ed è stato ricoverato al Torrette in progno riservata. Ed è andata male invece ad un 41enne a Osimo che sempre in sella alla motocicletta ha fatto un frontale con un furgone e stava tornando a casa dai due figli piccoli. Diego Petrugno è stato centrato da questo mezzo che si stava immettendo in via d'Ancona e purtroppo è morto. L'ultimo sogno infranto, l'Anconetano stava per aprire una nuova attività di fitness. L'altra notizia invece, sempre da Falconara, riguarda quell'uomo che ha tenuto la mamma in casa morta per tre mesi, 90 giorni. Nasconde la madre morta in casa, adesso è stato ricoverato, il figlio si è consegnato, ora si cerca un posto in psichiatria, ha occultato il cadavere per percepire la sua pensione. Domani l'autopsia. La pensione era accreditata nel conto corrente, l'uomo aveva nelle sue disponibilità appunto la carta Bancomat e quindi continuava ad utilizzarla, solo che poi è stato scoperto, è stato scoperto perché la sorella di quest'uomo, e quindi la figlia di questa donna, insomma, si è insospettita, voleva sapere della mamma e per un po' arretto, dopo chiaramente è venuta fuori la verità. Poi c'è un'altra notizia invece della quale si è parlato molto, di quell'untore, di quel ragazzo che nonostante sapesse di essere positivo all'HIV, all'AIDS, aveva storie con donne, è finito in carcere, adesso l'untore, così era stato definito, è uscito, è uscito dal carcere, non si è mai pentito, decisione inaccettabile. L'avvocato della Scaloni, l'ex fidanzata di quest'uomo che lo ha denunciato, dice potrebbe incontrarla. Istanza al Pg Sottani, i comportamenti dipinti sono dettati solo da interessi egoistici. Ecco, parliamo di questa persona, le tappe della vicenda, che comincia a maggio del 2018, con la denuncia alla polizia di questa ex fidanzata di Claudio Pinti, dopo aver scoperto di aver contratto lei l'HIV. A giugno è stato arrestato per lesioni personali gravissime, poi si aggiunge l'accusa di omicidio volontario per la morte dell'ex convivente. A marzo 2019, Pinti è condannato in abbreviato a 16 anni e 8 mesi per omicidio volontario e a lesioni personali gravissime. E poi a novembre, la Corte d'Appello conferma la condanna di 16 anni e 8 mesi, e l'untoro in aula dice Romina, perdonami. A maggio del 2021, invece la Corte d'Appello su richiesta della difesa di Pinti sostituisce la misura cautelare del carcere con gli arresti domiciliari. Torniamo in provincia di Pesero Urbino. Dalla città Ducale, droga nell'autocarro per l'edilizia, un maxi sequestro di coca purissima, un carico da 100 mila euro intercettato a Sant'Ippolito all'ora di pranzo, è stato arrestato un 22enne macedone. Il ragazzo è stato anche accusato per il possesso in casa di una katana irregolarmente detenuta. Fermi il traffico in rispetto del gattino morto. Siamo a Fermignano, il gesto di un camionista che ha raccolto il micetto sulla circonvallazione. A Fano, corriere adriatico, tappezza la tomba della mamma, foto e messaggi, siete assassini, accuse a sorella e cognato, 57enne rinviato a giudizio per vilipendio, stalking e diffamazione. Mentre la BCC di Fano, un bilancio da 6 milioni e mezzo di euro e poi l'annuncio di l'installazione di un banco matallido, relazione di rondina, edilizia in stato di grazia, ma sosteniamo la cultura. Da Fano invece il Carlino, rincari in vista per una ventina di concessioni, il canone demaniale minimo passa da 361 a 2.500 euro l'anno, penalizzate tra gli altri la spiaggia dei talenti e la Lega Navale. L'assessore Fanesi dice si tratta di una legge nazionale, il comune è solo un esattore, esattore ma con solerzia. Museo, pinacoteca e teatro, la cultura torna in presenza, visi di guidate e biglietto unico da domenica, esposte per la prima volta alle tuniche della confraternita di San Michele. Tornano gli sfratti, sempre da Fano, il grido di una mamma, Cate, a 34 anni, due figli, da domani sarà senza un tetto. L'appello dell'assessore Tinti, i cittadini che hanno alloggi sfitti, ci contattino. Ho sempre lavorato saltuariamente come cameriera, ma con il Covid si è fermato tutto e gli affitti si sono accumulati. Intanto Inquilino ripulisce l'appartamento, condannato a sei mesi, un 35enne che oltre a non versare il canone era fuggito, portandosi praticamente via tutto quanto. Il Museo Civico svela tesori, invece Augusto entra in teatro, sempre da Fano, Corriere Brigatico, dal 9 maggio esposte per la prima volta riscoperte durante la pandemia. Poi salvò un ragazzo alla stazione di Fano, una medaglia per Maria Capalbo, l'iniziativa della Giunta, al vaglio del Ministero. Maria Capalbo è la direttrice dell'azienda ospedali Marche Nord. Mentre sul sottopasso di via Cairoli, siamo sul Lido a Lido di Fano, Brunori l'assessore aspetta la Polloni, prime piastrelle, poi l'arte ispirata al mare e al dialetto, altri restyling in zona mare. Andiamo sulla pagina della Val Metauro. Centro vaccini all'aeroporto di Fano, l'iniziativa dopo aver omologato al volo notturno l'elisuperficie e inserita nel sistema per il soccorso. Ad occuparsi di autorizzazioni, organizzazioni e servizio a favore dell'impresa, sarà la SEA Gruppo di Fano. L'amministratore della Fano Fortuna e Ruggeri dice duplice finalità per il territorio. E poi a Cartoceto, l'ex assessore diventa il sindaco Ombra, insieme per Cartoceto contro l'amministrazione perché è assunto nello staff del sindaco. Nuova aula high-tech invece a Marotta, dedicata ad Asia. Ogni momento vissuto con il sorriso, la quattordicenne di Marotta, morta nella tragedia di Corinaldo, la cerimonia alla scuola Fadi Bruno. Adesso invece andiamo sulla pagina anche qui del Carlino, aula tecnologica dedicata ad Asia, la commozione di Mamma Daniela, dirigente della media Fadi Bruno, dice uno spazio solare creativo proprio come la nostra ex alunna. E poi c'è la foto di Carboni, un marchigiano al giro d'Italia, in bocca al lupo dell'assessore Baldelli, Giovanni Carboni è un 25enne, ciclista professionista di San Costanzo, nato a Fano, sarà l'unico marchigiano al giro d'Italia 2021, che scatterà sabato da Torino, e dunque l'assessore regionale Francesco Baldelli ha voluto porgergli un caloroso in bocca al lupo, e naturalmente i marchigiani faranno il tifo per lui. La Senigallia sulla spiaggia, 41 isole ecologiche, obiettivo ogni rifiuto al suo posto, raccolta differenziata, basta mozziconi a terra, negli arenili liberi 180 cartelli, con le informazioni per i bagnanti. L'assessore Campagnolo dice, entro il prossimo anno avremo 100 postazioni. Il carriero invece, sempre per quanto riguarda Senigallia, Covid, i turisti chiedono massima sicurezza, iniziano ad arrivare le prenotazioni, si preferisce poter mangiare all'aperto, stanze grandi e piscina, vogliono evitare dunque gli assembramenti. Pandemia, altre classi a Senigallia in quarantena, poi sotto l'ex circolo tennis in totale degrado, intanto dopo le proteste per la situazione del cimitero, le grazie scattano le puliture, bisettimanali. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Vi ricordo, alle 9 di questa mattina, oggi è mercoledì, l'udienza generale del Santo Padre, poi alle 16.30 oggi esplorare i confini del circolo Bianchini, intitolata Orizzonti di Robotica, con Bruno Siciliano, dell'Università di Napoli Federico II. Poi alle 17.30 ci sarà la Santa Messa, e alle 18 il Santo Rosario in diretta dal Santuario della Beata Vergine del Rosario in Corea del Sud. Grazie per averci seguito, ovviamente alle 20.30 ci vediamo per il Telegiornale. Arrivederci. Grazie,